Quante tardi? Amo, puoi fare il tè per favore? Ma perché te lo puoi fare da soli, sto lavorando? No, ma come fai dire il tè? Ma che tè stai a fare? Mi fai pure due fette biscottate con pure marmellata? Scusa, te sto a fare te, ma non te le puoi fare da soli, va a me capire. Ma come fai dire? Io non so che cavolo ci metti, però vengono fantastici. Amo, ma fai una bella spremuta. Ah, va pure la spremuta, ma fattela da solo, mi sto riposando un attimino. No, senti, io non so perché, ma come la fai dire, la spremuta, io naso qua. Ma che sta a uscire? Sì, perché? Mi fai il favore, butti la mondezza. No, 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 buttate. Perché? Perché come la buttate, ma guarda, non la butta nessuno. Ma che me sta a piacere, per culo. Ma ha iniziato te però, eh? Eh, e va a fare la pula adesso, e dagli, eh?